Salve amici! Oggi annunceremo alcuni treni dalla stazione di Milano-Rogoredo. Il treno Alta Velocità Frecciarossa, 93-91, di Trenitalia, proveniente da Torino-Portanuova, è diretto a Napoli Centrale, delle ore 9.02, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Reggio Emilia di Mediopadana, Bologna Centrale Alta Velocità Sotterranea, Firenze Santa Maria Novella, Roma Tiburtina, Roma Termini, Napoli a Fragola. I livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno Suburbano S1-24-05-2, di Trenord, proveniente da Milano-Bovisa Politecnico, è diretto a Lodi, delle ore 9.03, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. San Donato Milanese, Borgo Lombardo, San Giuliano Milanese, Meleniano, San Zenone Allandro, Tabazzano. Il treno regionale 10-4-5-9, di Trenitalia, proveniente da Milano-Greco-Pirelli, è diretto a Piacenza, delle ore 9.04, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Tavia, San Martino-Cava, Bressana-Botterone, Bressana-Argine, Pimarolo-No, Bardianello, Broni, Stradella, Arena-No, Castel San Giovanni, Sarmato, Rottofreno, San Nicolò. Il treno alta velocità Frecciargento, 8802, di Trenitalia, proveniente da Ancona, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 9.04, è in arrivo in ritardo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non sono previste fermate intermedie. Il treno suburbano S13-24-326, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Milano-Bovisa-Politecnico, delle ore 9.06, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Porta-Vittoria, Milano-Dateo, Milano-Porta-Venezia, Milano-Repubblica, Milano-Porta-Garibaldi-Sotterraneo, Milano-Lancetti. Il treno suburbano S2-24-225, di Trenord, delle ore 9.07, proveniente da Seviso, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno Italo-Alta-Velocità, 99.04, di nuovo trasporto Viaggeturi, proveniente da Roma-Termini, è diretto a Turino-Porta-Nuova, delle ore 9.08, è in arrivo al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Centrale, Torino-Porta-Susa. L'ambiente smatta e in testa al treno. Il treno regionale 2360, di Trenitalia, proveniente da Tortona, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 9.12, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Lambrate. Il treno Alta-Velocità-Freccia-Rossa, 95.83, di Trenitalia, proveniente da Torino-Porta-Nuova, è diretto a Reggio-Calabria-Centrale, delle ore 9.18, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Reggio Emilia di Mediopadana, Bologna-Centrale Alta-Velocità-Sotterranea, Firenze-Santa Maria-Novella, Roma-Tiburtina, Roma-Termini, Napoli-Affragola, Napoli-Centrale, Salerno, Paola, La Mezzia-Terme-Centrale, Rosarno, Villa San Giovanni. I livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno regionale Veloce, 30-19, di Trenitalia, proveniente da Ventimiglia, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 9.18, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Lambrate. Il treno regionale 30-85, di Trenitalia, proveniente da Gallarate, è diretto al Renga, delle ore 9.19, è in arrivo al binario 4. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Ferma. Pavia, Voghera, Tortona, Arenzano, Cogoleto, Varazze, Savona, Spotorno-Noli, Finale Ligure-Marina, Borgio-Verezzi, Pietro-Libure, Loano, Borghetto-Santo Spirito, Ceriale. Il treno suburbano S13-24-325, di Trenord, proveniente da Milano-Bovisa-Politecnico, è diretto a Pavia, delle ore 9.22, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Locate Triulzi, Piede Emanuele, Villa Maggiore, Certosa di Pavia. Il treno Italo-Alta Velocità 99-75, di nuovo trasporto viaggetori, proveniente da Milano-Centrale, è diretto a Napoli-Centrale, delle ore 9.24, è in arrivo al binario 8. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Roma-Termini. Il treno suburbano S1-24-126, di Trenord, proveniente da Lodi, è diretto a Saronno, delle ore 9.25, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno regionale 10-89-6, di Trenitalia, proveniente da Piacenza, è diretto a Milano-Greco-Pirelli, delle ore 9.29, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Emilia-Rubiera, Modena, Castelfranco-Emilia, Sanoggia, Anzola dell'Emilia. Il treno suburbano S1-24-0-2-7, di Trenord, proveniente da Milano-Bovisa-Politecnico, è diretto a Lodi, delle ore 9.33, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. San Donato-Milanese, Borgo-Lombardo, San Giuliano-Milanese, Melegnano, San Zenone-Allambro, Tabazzano. Il treno regionale veloce, 24-60, di Trenitalia-Tiper, proveniente da Bologna-Centrale, è diretto a Milano-Centrale, delle ore 9.35, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Lambarate. Il treno suburbano S13-24-3-2-8, di Trenord, proveniente da Pavia, è diretto a Milano-Bovisa-Politecnico, delle ore 9.36, è in arrivo al binario 1. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Porta-Vittoria, Milano-Dateo, Milano-Porta-Venezia, Milano-Repubblica, Milano-Porta-Garibaldi-Sotterraneo, Milano-Lancetti. Il treno suburbano S2-24-2-2-7, di Trenord, delle ore 9.37, proveniente da Seviso, è in arrivo al binario 2 Tronco. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Il treno alta velocità Frecciarossa, 95-08, di Trenitalia, proveniente da Roma-Termini, è diretto a Torino-Porta-Nuova, delle ore 9.38, è in arrivo al binario 7. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma. Milano-Centrale, Roffiera-Milano, Torino-Porta-Susa. I livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Il treno alta velocità Frecciarossa, 96-17, di Trenitalia, proveniente da Milano-Centrale, è diretto a Roma-Termini, delle ore 9.38, è in arrivo al binario 6. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Non effettua fermate intermedie. I livelli Executive Business sono in testa al treno, su questo treno è disponibile il servizio di ristorazione. Annuncio ritardo, il treno Italo alta velocità, 99-23, di nuovo trasporto Viaggiaturi, delle ore 9.48, proveniente da Torino-Porta-Nuova, è diretto a Roma-Termini, arriverà con un ritardo previsto di 30 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Annuncio cancellazione treno, il treno suburbano S13-24-3-2-7, di Trenord, delle ore 9.52, proveniente da Milano-Bovisa-Politecnico, è diretto a Pavia, oggi non sarà effettuato, per lo sciopero del personale. Ci scusiamo per il disagio. Il treno regionale 10-4-5-8, di Trenord, proveniente da Stradella, è diretto a Milano-Greco-Pirelli, delle ore 9.52, è in arrivo al binario 5. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, il treno regionale 10-8-6-0, di Trenord, proveniente da Piacenza, è diretto a Milano-Greco-Pirelli, delle ore 9.59, è in arrivo al binario 3. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla, ferma, Milano-Lambrate.